Paola Caruso è stata squalificata dalla Pupel Secchione. Dopo la lite avuta con Mila Suarez, nella quale Paola Caruso ha alzato le mani sulla compagna d'avventura, Barbara D'Urso, insieme ai suoi autori della Pupel Secchione Show, ha deciso di squalificare la Caruso dal programma. Anche per Mila Suarez sono stati presi dei provvedimenti disciplinari, colpevole di aver provocato la reazione di Paola e di aver rotto diversi oggetti in villa durante la lite, ma anche in studio Paola non ci sta ed ha di matto davanti a Barbara D'Urso. Accusa la Suarez di averla provocata volutamente per ottenere proprio una sua reazione funesta. E con parolacce e accuse di ogni sorta, censurate dalla trasmissione, Paola Caruso fa perdere la pazienza alla conduttrice. Tu mi hai provocato perché io sapevi che se mi toccavi di nuovo mio figlio io partivo a cannone e tu lo sapevi per buttarmi fuori sei una c***a di persone, perché pur di giocare calpesti le persone, asfalti le persone, fai c***o. Insomma, un momento televisivo sicuramente epico ma non aulico. Sarà riuscita Barbara a risollevare gli ascolti con quanto accaduto? Sì. 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 Sì.